Quando si parla di prevenzione delle fratture osse oggi si parla anche di farmaci neoformatori. Ne abbiamo discusso anche durante il secondo congresso nazionale del gruppo Geodate in corso ad Alghero e noi abbiamo cercato di capire meglio questi farmaci con il professor Gonnelli. Allora professore come funzionano questi neoformatori? I neoformatori sono dei farmaci che stimolano la neoformazione ossa e in particolare vanno a far sì che gli osteoblasti, le cellule che producono un nuovo osso, siano più attive e quindi producono in maggior quantità un osso. Questo è importante perché i farmaci che noi normalmente utilizziamo sono farmaci antiriassorbitori, quindi bloccano il rimaneggiamento osseo, bloccano la distruzione dell'osso, ma non sono in grado di riformare quella connettività del tessuto osseo che è fondamentale per dargli resistenza. E questo è il lavoro che devono fare i neoformatori. Ecco, quali sono? Quali abbiamo a disposizione oggi per il paziente italiano? Attualmente abbiamo un farmaco neoformatore estremamente efficace che è il Teriparatide. Lo abbiamo ormai da oltre 15 anni, quindi è un farmaco ormai ben noto che è efficace. Quali sono i possibili limiti di questo farmaco e quindi l'esigenza di averne di nuovo? Il fatto è che non possiamo utilizzarlo per più di due anni in tutta la vita del nostro paziente. Quindi di fronte a soggetti che hanno problemi sarebbe importante avere nuovi farmaci neoformatori. E quindi questo ha stimolato la ricerca a cercare nuove molecole. Alcune di queste sono già diventate dei farmaci già in uso in diversi paesi, fra cui gli Stati Uniti. Ecco, cosa potremmo aspettarci quindi anche per l'Italia, per il prossimo futuro? Ci aspettiamo che uno di questi, il romosozumab, che è un anticorpo antischerostina, quindi blocca la sostanza che normalmente riduce la neoformazione ossea. Quindi in maniera indiretta, stimola la neoformazione, possa essere approvato. Già approvato dall'FDA, nei prossimi giorni verrà di discusso nuovamente dall'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, e speriamo che potremo averlo a disposizione in modo tale da migliorare le nostre capacità di ridurre il rischio di fratture dei nostri pazienti. Professore, infine, quando nel paziente vengono utilizzati questi farmaci e ci sono dei pazienti in cui non possiamo utilizzarli? Allora, al momento, diciamo, i pazienti in cui noi non dobbiamo utilizzare i farmaci che stimano la neoformazione ossea, quali i teriparatiti, sono i pazienti oncologici, pazienti soprattutto che hanno tumori, che hanno rischio di mestilizzazione alle osso, e pazienti che hanno malattie tipo il morbo di Paget. Qual è l'uso ideale di questi farmaci? Il soggetto ad alto rischio, anche perché ovviamente avendo un costo non indifferente, è giusto utilizzarli quando c'è un rischio di frattura importante. Grazie a tutti! Grazie a tutti!